Una storia che arriva da lontano. Una storia che racconta un fatto prodigioso. La guarigione miracolosa di una donna di Torre del Greco avvenuta nel lontano 1931. Lo si apprende da un articolo di giornale della Gazzetta del Mezzogiorno del 21 maggio 1931. A pagina 7 del giornale fondato a Bari nel 1887, tra gli articoli di cronaca anche uno che narra di una prodigiosa guarigione di una signorina a Torre del Greco. Una storia lunga, 93 anni, ma che ancora oggi suscita emozioni e curiosità. Protagonista la signorina Margherita Sallustro di 41 anni, guarita, secondo l'articolo dell'epoca, da un male incurabile di cui era sofferente da anni. Dopo aver sperimentato in vano tutte le cure, aveva deciso di non sottoporsi all'intervento chirurgico, affidandosi alla fede. Apparteneva infatti ad una famiglia molto religiosa. L'articolo narra che circa 15 giorni prima dalla data della pubblicazione le apparve in sogno il professore Giuseppe Moscati, il medico santo canonizzato da Papa Giovanni Paolo II, il 25 ottobre 1987, che le disse di confidare nella guarigione. La notte successiva alla Sallustro fece lo stesso sogno. Da quel momento la signorina Margherita iniziò a sentirsi meglio fino alla completa guarigione. Ma in quella data il fatto prodigioso non fu l'unico. Sempre secondo il giornale dell'epoca, nella chiesa della Madonna delle Grazie a Foggia, il sagrestano vedeva gli occhi dell'immagine muoversi a varie riprese. La gente corse in chiesa e gridò al miracolo. Due notizie riprese da Giuseppe Zingarelli, giornalista, storico e ricercatore di Padre Pio da Pietralcina, sul sito Vita Web TV.